My Queen 6, Canalizzazione del Sé Superiore, 11 settembre 2020, traduzione marina, mentre il tempo continua ad accelerare, le cose si muovono molto rapidamente e le cose che trasportano le vibrazioni inferiori iniziano a scoprire che la loro stessa esistenza è minacciata, in un modo non così diretto, un gran numero di esseri umani sentono che il loro posto nella società è minacciato e il loro futuro è molto incerto, viene da una sensazione di insicurezza sul loro futuro, più le vibrazioni aumentano, più una netta differenza viene avvertita da coloro che devono ancora trovare il loro vero sé, tutto porta alla separazione di coloro che si stanno preparando ad ascendere e di quelli che devono ancora comprendere il significato del periodo in cui si trovano, col passare del tempo la verità diventerà più evidente, poiché una scelta, e una decisione dell'individuo, se rivolgersi alla luce, garantirà un risultato equo e accettabile poiché tutti alla fine si troveranno al giusto livello, che è in accordo con le loro vibrazioni, qualunque sia il grado di progresso compiuto nella vostra evoluzione, e un passo più vicino al vostro ritorno ai regni superiori da cui siete venuti, non c'è colpa, per coloro che sono in ritardo, poiché la velocità del progresso è una questione individuale per l'anima coinvolta, il fatto è che avete tutto il tempo necessario per acquisire esperienza e, in ogni momento, avrete assistenza e guida per mantenervi sulla buona strada, rendetevi conto che vi siete offerti liberamente volontari, per accettare la sfida di sperimentare le vibrazioni inferiori con un grado limitato di coscienza, non vi pentirete mai di aver affrontato una tale sfida, poiché, in ultima analisi, sarete diventati una grande anima, con un'immensa esperienza che vi servirà bene, riuscite a immaginare quale grande evento sarà la vostra ascensione, il passo finale che assicura il vostro ritorno alla luce, un lungo viaggio finalmente concluso e non c'è da stupirsi che ci saranno celebrazioni, con il vostro livello ridotto di coscienza, e i ricordi bloccati delle vostre innumerevoli incarnazioni, non c'è da meravigliarsi che siate perplessi, su cosa si tratti, la verità è che siete stati individui poveri e ricchi, tutto ciò come un mezzo per darvi un'idea di cosa significhi vivere, sperimentare, in un universo materiale, a volte è molto difficile per ogni anima, ma con l'aiuto e la guida delle vostre guide il percorso è stato alleggerito e il successo non è mai stato lontano, alcuni chiedono che cos'è l'evoluzione, avendo dimenticato di aver avuto varie esperienze a molti livelli diversi, che hanno consentito loro di aumentare le loro vibrazioni, l'obiettivo è tornare alla luce con un bagaglio di esperienza che vi servirà bene in futuro, potreste non rendervene conto, ma siete esseri venerati per aver ottenuto così tanto attraverso eoni di tempo e per questo siete tanto più grandi, siete alla porta del successo e non dovrete più lottare per mantenere il vostro posto tra coloro che sono pronti ad ascendere, dovete essere veramente applauditi e festeggiati per esservi assicurati un posto nei livelli più alti di luce, il periodo che deve ancora venire varrà l'attesa, ma in realtà è già qui, le vecchie energie stanno scomparendo rapidamente e per la maggior parte di voi cesseranno di essere in grado di trattenervi, poiché avranno perso il potere di influenzare il vostro futuro, gli oscuri hanno combattuto duramente per portare a termine i loro pieni nefasti, ma la luce ha dimostrato di essere più che una sfida per loro, ed è sull'orlo del completo successo, gli oscuri sono già in ritirata e continueranno a esserlo fino al loro collasso finale, sono arrivati molto vicini all'adempimento del loro piano per il dominio del mondo, ma alla fine la luce si è dimostrata suprema e ha aiutato il ritorno della pace sulla Terra, non accadrà dall'oggi al domani, ma i semi del successo sono stati seminati, la fine della vecchia era indugia, ma le numerose azioni in atto accelereranno i cambiamenti finali che consentiranno alla nuova era di manifestarsi pienamente, prima risolvete la cosa, più velocemente tali cambiamenti avranno luogo e prepareranno la scena per la manifestazione di molti cambiamenti bloccati, anche nel vostro tempo presente siete consapevoli dei progressi fatti, che promettono di spingervi in una nuova era, i segnali ci sono già e in parte saranno dovuti ai postumi del coronavirus, vi ha spinto nella nuova era e vi ha costretto a guardare dove possono essere apportati miglioramenti alla vostra qualità di vita, ce ne sono molti, eppure alcune persone si aggrapperanno a ciò che è loro familiare senza alcun risultato, il progresso deve arrivare se volete essere completamente preparati a prendere il vostro posto nelle vibrazioni più alte della luce, non avete intravisto, fino ad ora, il meraviglioso futuro che vi chiama e, sicuramente, il più grande beneficio sarà vivere in assoluta pace e armonia con tutte le altre forme di vita, per incontrare i molti umanoidi che hanno sempre avuto un legame con voi e sono stati vincolati, dalla legge galattica, a resistere dall'essere coinvolti con voi, ricordate che, in un universo di libero arbitrio, gli altri esseri non devono interferire e devono permettervi di prendere le vostre decisioni, vi impressioniamo con idee che potrebbero aiutare la vostra evoluzione, ma non andiamo oltre, imparate dai vostri errori e tali esperienze sono durature e benefiche per il vostro progresso, aspettiamo con gioia e felicità che venga presto il tempo in cui faremo di nuovo la vostra conoscenza e celebreremo il vostro successo assieme a voi, è un'occasione per l'ascensione, ma soprattutto perché sarà speciale, sappiamo che sarà un successo, ma sarà la prima volta che l'ascensione avrà luogo con le anime ancora nei loro corpi fisici, tuttavia, non rimarranno in loro, ma sperimenteranno un cambiamento istantaneo che li vedrà in un corpo di luce luminoso, sarete veramente diventati esseri di luce, vi lascio con amore e benedizioni e possa la luce illuminare i vostri giorni e il percorso verso il completamento, questo messaggio arriva attraverso il mio Sé superiore, il mio Sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio, in amore e luce, My Queen 6, traduzione marina.